Ciao amici di Team, siamo a Sanremo per la 67esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Vi porterò nei luoghi celebri per vivere insieme l'attesa, il fermento, l'eccitazione a poche ore dell'inizio del Festival. Questo è il nostro Team Music Studio, qui tutti i giorni ospiteremo gli artisti in gara e non solo, che ci regaleranno le loro radio playlist. E in più ci faremo raccontare qualche curiosità e le emozioni di questa edizione del Festival di Sanremo.